Ciao amici! Oggi faremo dei puzzle, quindi se volete fare gli altri anche voi, da soli, potete farlo, perché sotto vi lascio il link per scaricare questo gioco. Cominciamo con questo bello unicorno. Allora, cominciamo dal primo pezzo. Questo qui va qui sopra, poi, cominciamo prima dagli angoli, poi all'interno. Questo pezzo va qua, poi questo pezzo qui di sopra va qui, che è il corno dell'unicorno. Questo pezzo va insieme, poi questo pezzo va qui sopra, in alto, poi quest'altro pezzo va qui sotto, quest'altro va qua, quest'altro pezzo va qui, poi questo pezzo va qui sopra, questo pezzo va giù, infine questo va qua, e questo qui va qua. Adesso facciamo l'interno, che sarà davvero semplice. Allora, questa parte va qui, quest'altra va qui, quest'altra qui, e infine questo qui. Benissimo! Continuiamo! Che bel topo! Facciamo il suo passo! Allora, cominciamo anche qui dagli angoli. Allora, quest'angolo va qui sopra, poi questo va qui sotto, questa la zampetta va qua, l'altra zampetta va vicino a quella di prima, poi mettiamo questo qua sotto, poi quest'altro qui sotto, questo qui sopra, questo qui sotto, questo qui sopra, qua, poi mettiamo l'orecchio là, mettiamo i due cuori là, qui, e mettiamo quest'ultimo. Abbiamo finito gli angoli, ci mancano solo le parti intere, interne. Allora, l'occhio va qua, l'altro occhio va qui, poi la bocca va qua, e l'altro pezzo della bocca va qua. Benissimo! Continuiamo! Un unicorno maschio! Bello! Allora, facciamo sempre gli angoli. Mettiamo questo angolo qui sotto, poi questo qui, questo qui sotto, quest'altro sopra, quello, questo, questo sopra, anche quest'altro sopra, questo, il corno e il cappello, qui il cappello, dove c'è scritto cool. Continuiamo con quest'altra parte, poi la farfalla, poi continuiamo con l'altra parte della farfallina, e finita parte. Adesso, facciamo l'occhio del bell'unicorno, i piedi, l'altra parte del cappello, e infine il bell'unicorno. Benissimo! Continuiamo con l'altro puzzle. che bello unicorno! E' bellissimo! Nella nede! Anche qui, cominciamo dagli angoli. Allora, quest'angolo va qua, questo di sopra, qui, quest'altro va qua, questo va sotto, questo va sopra, questo qui va qua, questo va qui sotto, questo va qui, questo va qua, questo sotto, e poi questo sopra, e poi questo sopra. Adesso, questo va qua, quest'altro pezzo va qui, questo pezzo va qui, e abbiamo finito! continuiamo con il prossimo puzzle. Che carino questo micetto! Facciamo il suo puzzle! Allora, questo pezzo va qua, quest'altro va sotto, questo va sopra, anche questo va sopra, questo va al lato, questo va all'altro lato, questo va sopra, le zampette vanno qui, quest'altro angolo va sotto, quest'altro angolo va sopra, questo angolo al lato, e infine quest'altro angolo sotto. Adesso, la faccina del cattino la mettiamo qua, il cappello qui, l'altra parte degli occhi qua, e l'altro occhio qua. benissimo, continuiamo! Che bello unicorno! Facciamo il suo puzzle! Allora, questo pezzo va qua, quest'altro qui, questo qui, questo qui sotto, questo qua sopra, l'occhio va qua, questo angolo va sopra, poi quest'angolo va giù, quest'angolo va giù, e quest'angolo va giù, questo va sopra, questo va al lato, e questo al lato, poi i capelli qui, la boccuccia qui, e l'occhio qui. Continuiamo! Che bello cagnolino! Facciamo il suo puzzle! Allora, questa parte va qua, quest'altra qua, l'occhio qua, questo orecchio va qua, i piedini qui, l'altro orecchio va qua, poi la parte di sopra qui, questa parte in alto, le zampecce qui, l'occhio qui, la parte di sotto qua, questa parte qua, quest'altra qui, questa va sotto, questo orecchio è appena, questa parte. che bello unicorno, facciamo il suo puzzle! Allora, questa parte va sopra, questa di qua, quest'altra qua, qui sotto, la coda qui, questa parte va qui sopra, questa al lato, quest'altra all'altro lato, questa è la bocca, e gli occhi vanno qua, i capelli qua, le zampette qui, poi, questa parte va qui sotto, questa va qui, e il pino che sta pronto a fare qui! Questa era facile, però, ora basta! Direi che può bastare! Spero che questo video, vi sia piaciuto, e che vi siate iscritti, al mio canale! Ciao a tutti, e arrivederci al prossimo video! Ciao! Ciao!